ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere come eseguire questo effetto che avete appena visto nella preview prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al tutorial apriamo il nostro after effect importiamo il video io ho fatto questo video come vedete ho messo dei punti neri sulle dita in modo da riuscire a tracciare il movimento delle dita quindi la prima cosa che andiamo a fare è appunto tracciare tutti i movimenti che fanno le nostre dita per farlo usiamo appunto il tracciatore facciamo traccia movimento come vedete ci apre questa nuova finestra qui si dà questo quadrato che noi andremo a spostare metterlo su uno dei nostri punti del primo dito andiamo ad allargare andiamo a selezionare appunto il nostro primo dito facciamo play e come vedete lui ci traccia il movimento una volta finito e appurato che comunque abbia seguito correttamente il nostro movimento andiamo su livello nuovo facciamo oggetto nullo andiamo a mettere lo nominiamo 1 andiamo in modifica destino torniamo a selezionare il nostro video facciamo modifica destinazione livello 1 quello nullo che abbiamo appena creato facciamo ok facciamo applica x y ok perfetto in questo modo come vedete il nostro oggetto nullo segue perfettamente il movimento del nostro primo dito ora andiamo a fare un nuovo livello sempre oggetto nullo andremo a chiamare 2 e andiamo a fare praticamente la stessa cosa con tutte le altre 4 dita quindi selezioniamo il nostro video facciamo traccia movimento ci spostiamo sul secondo dito andiamo a selezionare il nostro punto andiamo a fare play una volta finito anche qui andiamo a modificare la destinazione qui ci da 2 quindi va bene facciamo ok facciamo applica x y ok questo andiamo a ripeterlo con tutte le dita ora io velocizzerò il video anche perché comunque la procedura è sempre la stessa quindi velocizzerò il video per insomma rendere un po' più veloce il tutto bene una volta finito di tracciare tutto il movimento delle nostre dita ci assicuriamo di avere rinominato in modo abbastanza comprensibile i nostri oggetti nulli in questo caso ho messo 1 2 3 4 5 potete anche mettere dito 1 dito 2 dito 3 dito 4 dito 5 ecco e l'importante che comunque siano ben suddivisi perché ora andremo a fare delle operazioni che richiedono una certa precisione e un certo ordine onde evitare di andare a sbagliare qualcosa quindi una volta fatto appunto tutto questo ora andiamo a fare un nuovo tinta unità e lo chiameremo perlomeno io lo chiamo 1 bar 2 che mi sa significare che andiamo a interagire sul dito 1 e sul dito 2 ossia questo e questo facciamo ok andiamo a importare dagli effetti scriviamo raggio in genere raggio lo prendiamo lo portiamo sulla nostra tinta unità e come vedete si compare questa linea ora la prima cosa da fare è la lunghezza metterla al 100% i colori andiamo a interagire dopo quello non ha problema per il momento lo lasciamo così ora andiamo a fare un nuovo oggetto nullo lo andiamo a rinominare e lo chiamiamo controllo colore andiamo negli effetti cerchiamo appunto controllo colore lo prendiamo lo mettiamo sopra il nostro oggetto nullo appunto chiamato controllo colore andiamo a duplicare l'effetto in modo da averne 2 ora andiamo sul nostro oggetto nullo 1 2 andiamo in colore interno tenendo premuto alt clicchiamo come vedete si apre questa stringa quello che dobbiamo fare è selezionando controllo colore come vedete qui ci ha aperto questo codice tramite questa chiocciola andiamo appunto dirgli di selezionare il controllo colore 1 stessa cosa nell'altro quindi selezioniamo sempre il nostro oggetto nullo in questo caso facciamo colore esterno clicchiamo come vedete ci apre anche qui la stessa stringa prendiamo andiamo a selezionare il nostro controllo colore prendiamo la nostra chiocciolina e gli andiamo a dire di prendere come riferimento appunto controllo colore 2 ora se noi andiamo a cambiare i colori qui come vedete se li cambia in automatico anche sotto ora io per il momento li lascio rossi dopo questi ne andiamo a modificare dopo adesso torniamo sul oggetto nullo 1 di 2 che sarebbe appunto il ricordo dito 1 e dito 2 e dobbiamo andare a interagire su punto iniziale e punto finale allora alziamo la nostra timeline in modo da avere più spazio per lavorare e come abbiamo fatto prima andiamo su come vedete c'è un punto iniziale e punto finale noi dobbiamo dire la linea dove si deve posizionare quindi il suo punto iniziale che sarebbe questo e il suo punto finale che sarebbe questo quindi tenendo premuto alt andiamo su punto iniziale e punto finale come vedete si apre anche qui le nostre due stringhe con le nostre chiocciole e la cosa che dobbiamo andare a fare praticamente è apriamo il nostro oggetto nullo 1 e dobbiamo andare a mettergli questa posizione in modo che ci segua il movimento del dito quindi in punto iniziale prendiamo la nostra chiocciola la portiamo giù e gli diciamo di usare questa posizione e come vedete si ancora perfettamente al primo dito come punto finale andiamo ad aprire il nostro dito 2 prendiamo sempre la chiocciola e gli andiamo a dare la posizione dell'oggetto nullo 2 come vedete ora segue il movimento delle nostre due dita adesso la cosa che dobbiamo andare a fare è praticamente la stessa per tutte le dita quindi faremo 1 3, 1 4, 1 5 poi faremo 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2 e 3 4 insomma praticamente andiamo a fare tutte le linee a seconda dei nostri gusti possiamo metterne quante ne vogliamo a secondo dei punti che abbiamo fatto la procedura è comunque sempre la stessa per facilitarci però andiamo a duplicare il livello che rinominiamo appunto con 1 3 appunto dito 1 e dito 3 andiamo ad aprire i nostri effetti raggio punto iniziale e punto finale come vedete qui andremo a modificare solamente il numero all'interno quindi il punto iniziale va bene perché 1 e parte dal pollice punto finale e andiamo a mettere appunto 3 e come vedete ci ho già dato la nostra linea stessa cosa per tutte le altre dita quindi command D 1 di 4 effetti raggio punto iniziale e punto finale punto iniziale sempre 1 qui andremo a mettere 4 ok e così via per tutte le dita ora velocizzerò il video tanto la procedura è sempre la stessa l'importante è che stiate attenti appunto a mettere gli oggetti nulli ossia le vostre dita in maniera corretta bene una volta finito di fare appunto tutto questo lavoro il risultato finale dovrebbe essere appunto questo poi ripeto siete liberi di mettere quante linee volete ce le potete anche mettere solo le prime quattro insomma questa è molta descrizione vostra e questo è il nostro effetto ora per andare a nascondere appunto questi punti neri che non stanno tanto bene attorno alle dita gli sono andato ad applicare un effetto luminoso quindi facciamo nuovo tinta unita lo chiamo Optical facciamo ok andiamo a cercare Optical Flares che è un plugin di VideocoPilot se non sapete come installarlo vi lascio in descrizione il link per andare a vedere il tutorial come vedete si apre questa schermata andiamo su opzioni a me interessa comunque solo il punto luminoso senza la scia quindi vado a deselezionare tutto quello che riguarda la scia perfetto lasciamo solo appunto questo qui gli vado a cambiare il colore gli metto un rosso anche questo comunque è tutto molto a gusto personale cioè sugliagliete voi il colore che più preferite facciamo ok andiamo a mettere su render mode invece che su nero lo mettiamo su trasparente in modo che ci lascia il nostro video sotto andiamo ad abbassare un po' la luminosità un po' anche la nostra scala ok più o meno in questo modo ora la cosa che dobbiamo andare a fare è quindi andiamo a dire di seguire appunto le nostre dita quindi andiamo in stessa cosa posizione x y teniamo premuto alt come vedete ci apre questa stringa e dobbiamo dargli dire di seguire appunto il nostro dito in questo caso l'1 quindi apriamo l'1 e andiamo a dirgli appunto di seguire questa posizione quindi prendiamo la chiocciola andiamo in giù e gli diciamo seguimi questa posizione perfetto come vedete si segue il movimento del nostro dito ora andremo a duplicare altri 4 volte appunto il nostro effetto quindi command D adesso per non fare casino facciamo rinanima mettiamo 1 qui mettiamo 2 ora per non stare lì come prima prendi la chioccia la sposta insomma che diventa tutto un casino pazzesco basterà aprire la nostra posizione e andare a cambiare appunto questo numero quindi qua gli andiamo a dire seguici il dito numero 2 quindi ossia l'oggetto nullo numero 2 command D numero 3 e così via per le altre due dita bene una volta finito questo è il nostro effetto finale adesso il mio va piano perché bisognerebbe fargli fare il rendering ora se andiamo su controllo colore come vedete abbiamo i nostri due colori possiamo andare a cambiare il colore tipo qui lasciamo un rosso e qui lo portiamo tipo su un giallo come vedete cambia colore anche questo va molto secondo i vostri gusti se volete fare come me che praticamente cambia colore no col tempo vi basterà a inizio sequenza dirgli selezionare questi due marcatori e dirgli di partire con questi colori e portandovi a fine sequenza andargli a dire per esempio di andare su un blu in questo modo come vedete adesso deve fare il rendering però man mano che vi spostate come vedete cambia il suo colore fino a tornare al colore iniziale bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial vi ringrazio di avermi seguito vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto mettete un mi piace al video commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti